bentornati in un nuovo video oggi vi mostrerò questa power bank che va a sostituire in parte queste power bank un po più grosse l'unica pecca che questa qui è usb c mentre queste qua hanno due o più o meno porte usb andiamo a vedere nel dettaglio nella confezione troviamo un cavo di ricarica usb c usb e la nostra power bank che comunque è abbastanza di ambicella eccola qua vedete questa è la nostra power bank andiamo a vedere le dimensioni in confronto a quella classica che comunque un 5000 anche lei perché non è nuovissima di solito si trovano sui 10.000 grosse così vedete la dimensione è molto più piccola soprattutto in larghezza non tanto l'altezza perché più o meno due dita qui abbiamo bisogno di un cavo necessariamente qui se abbiamo un telefono un dispositivo usb c basta da toglierci la protezione vedete abbiamo la nostra uscita vedete giustamente ingrandisce un po lo smartphone quindi può essere scomoda per chi tiene il telefono in tasca ma rispetto a questa qui comunque rimane comoda perché anche questa andava tenuta in tasca le caratteristiche di questa power bank sono 5200 mili ampere di potenza quindi più o meno una ricarica di smartphone attuali questo è tutto se ti sono stato utile lascia un like al mio video per acquistarlo trovi il link in descrizione